L'intesa ancora non c'è, i sindaci della CDA, della Tidrico si rivedranno oggi per tentare di arrivare alla scelta della direttore generale dell'Assemblea Territoriale. La Rosa era ristretta a cinque funzionari della Comune di Gela, il nome non è stato ancora individuato. Ieri i curriculum sono stati valutati, lo spiega anche il presidente dell'ATI Massimiliano Conti, una decisione potrebbe arrivare in giornata se non si giungesse al varo del nome, allora le prospettive potrebbero anche cambiare. La strada principale è quella che porta comunque ad un funzionario interno ai comuni dell'ATI, ma rimane sempre aperta l'ipotesi di guardare a professionisti esterni. Il direttore generale dell'ATI, che solo la scorsa settimana ha assunto in pieno le funzioni del lato idrico, dovrà occuparsi di rappresentanza organizzativa e gestionale coordinandosi con lo stesso presidente. L'avvio a pieno regime delle attività dell'Assemblea Territoriale Idrica, secondo le intenzioni, dovrebbe segnare un'inversione di rotta rispetto a quella che è stata l'esperienza del lato, anche dal punto di vista dei controlli sulle servizio idrico e sulle attività del gestore Caltacqua, che ad oggi non ha mai veramente assicurato la piena attuazione del contratto, con disservizi che sono all'ordine del giorno e si fanno sentire soprattutto in città. Il direttore generale scelto tra i funzionali del comune di Gela, che hanno avanzato la loro disponibilità, potrebbe chiudere il cerchio della rappresentanza dopo la presidenza andata al comune di Niscemi e la vicepresidenza al sindaco di Caltanissetta. Ancora però i giochi non sono del tutto chiusi e una decisione in tal senso potrebbe arrivare nelle prossime ore.